ciao allora come avete visto anche nel titolo oggi rottamiamo perché perché questo perché ho fatto acquisti di make up rottamando il vecchio make up allora è una cosa che è una promozione che c'è ogni tanto dati gotà almeno una volta all'anno e portando il vecchio make up anche quello usato ed è quello finito io ad esempio le confezioni le tengo sempre porti in negozio e ogni prodotto che porti di quello da buttare ed hai lo sconto del 25% sul nuovo prodotto di tutti quindi io normalmente e in questo caso ne approfitto per fare le scorte di quei prodotti che uso sempre quindi non le novità o quelle cose però quelli che so che andrei a ricomprare sempre durante l'anno quindi in questo caso ho preso alcuni prodotti che mi servivano e che so che ricompro l'unica cosa negativa è che cavolo quando inizia questa promozione non c'è mai niente infatti sono andata per essence e ho trovato tre cose perché tutte le altre erano o finite sempre e ovviamente fino a quando non finisce la promozione non riforniscono lo stand oppure tutte aperte c'è una cosa che io odio quando trovare tutte le confezioni aperte ma io dico ci sono i tester parlo dell'essence ma anche di tanti altri brand che ci sono lì dentro ci sono i tester perché dovete aprire la confezione per forza è antipatico allora vi mostro cosa ho preso che ho preso questi due correttori perché io li uso sempre e li ricompro continuamente sono gli unici due che ho trovato non aperti oltretutto questo forse si vede un pochino hanno tentato di aprirlo ho controllato ma è ancora chiuso il sigillo quindi ok tutti gli altri erano aperti si vedeva anche che non era più arrotornata la punta ma io dico è antipatico comunque lo so che non è una grande spesa ma io questi li ricomprerei se no sicuramente durante l'anno quindi perché non approfittarne prezzo perché c'è lo scontrino costavano 2,49 euro l'uno e io li ho pagati 1,87 euro l'uno con lo sconto quindi perché no proverò entro fine promozione che normalmente è un mese entro fine mese a provare a ritornarci a vedere ma normalmente riforniscono gli stand il lunedì ma durante questa cosa della rotamazione non li riforniscono fino a quando non finisce la promozione e poi ho trovato solo uno di questi che è il make me brown e l'ombretto per sopracciglia che sapete che io amo questo è il brown ce n'era solo uno mannaggia comunque sia costava 2,99 euro a prezzo pieno e io l'ho pagato 2,24 euro quindi pochi acquisti perché erano solo questi tre ma ci tornerò e se ci torno e li trovo vi aggiorno nel video sicuramente ho visto che per chi non ha il tigotà vicino per tutto il mese che fanno la promozione della rotamazione sul sito invece quello shop online c'è lo sconto del 20 su tutto il make up e ci farei anche un occhio perché il negozio e la promozione non riguarda i pennelli mentre sul sito ci sono anche i pennelli scontati quindi ci guarderei un attimo sicuramente allora eccoci qua con le altre cose che ho trovato finalmente secondo giro con la rotamazione infatti mi ero fatta la borsina ma di prodotti che da rotamare me ne sono rimasti pochi faccio vedere questi sono i vuoti che io tengo da per la rotamazione che andrà per la prossima volta cos'altro ho preso allora prima di tutto ho preso la terra questa la matte bronzing padware è colore 01 natural perché comunque sia a me piace e mi trovo bene questa costava 4 49 ma io l'ho pagata 3 e 37 sto guardando lo scontrino perché è lunghissimo perché per ogni prodotto c'è il prezzo sconto 25 e poi il sconto c'è diventa lunghissimo scusate poi altro correttore che era aperto però comunque ho controllato e sembra abbastanza intatto 20 matt sun che quello che preferisco questo qui il cover stick che costava 2 euro e 49 ma io l'ho pagato 1 euro 87 e poi dopo ne ho prese due perché ce n'erano solamente due ma questa quando c'è la prendo sempre sono le cialdine della maimostave questa è la cipria aspettate che uno cerco di aprirvelo così ve la faccio vedere ecco è la classica cipria bianca sapete quella che c'è anche in formato grande ma questa qua è la piccolina quella proprio fissante ed è perfetta al finire in borsa anche perché è grande così quindi borsa questa qua è perfetta e ne ho presi due questa veniva 1 euro e 89 e le pagate 1 euro e 42 l'una quindi questo era tutto lo shopping con la rotamazione quindi fatemi sapere se anche da voi c'è questa rotamazione quali prodotti acquistereste io tendo ad acquistare prodotti che uso sempre ma sarebbe una buona promozione anche per prendere prodotti un pochino più costosi perché no fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia e se anche da voi gli stand di Essence sono sempre così ridotti male proprio se vi è piaciuto questo video veloce veloce dove magari vi aggiorno mettetemi un like e mi raccomando anche di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video haul di shopping anche veloci e di cliccare sulla campanella così vi avrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao